Consulenza personalizzata. In questo video analizzo, in compagnia del proprietario della barca, il suo impianto elettronico di bordo, l'ecoscandaglio, le sonde, il black box e anche il multifunzione ovviamente, oltre che le sue tecniche di pesca preferite. Vediamo se riesco a migliorare il suo rapporto con gli strumenti di bordo che ha a disposizione e se riesco a consigliarlo sul miglior setting a seconda delle situazioni. Il pescatore di oggi è Giuseppe, un pescatore che ama tante tecniche di pesca, che spaziano dell'apnea, dove è un vero professionista perché arriva oltre i 40 metri, alla traina con il vivo e anche il bollentino di profondità. È fortunato che vive in Sardegna e il mare gli offre veramente tante possibilità. Vediamo un estratto di questo video che ho girato con lui, che dopo gli ho lasciato ovviamente in modo che se lo possa rivedere tutte le volte che voglio, anche perché penso possa essere utile a tanti altri pescatori. Per avere questo tipo di consulenza è sufficiente essere abbonato al canale nella categoria armatore esclusivo. Ci sono ancora pochi slot disponibili. Se sei interessato anche tu, puoi guardare la categoria degli abbonamenti del canale. Vediamo adesso insieme alcune parti che considero fondamentali. Grazie ancora Giuseppe. Ok, allora Giuseppe spiegami un po' qual è il tuo impianto? Come è composto? Allora, TZ3, la sonda 265. Il DFF3D? Sì, è l'antenna satellitare. È la VX20. Il DFF3D più la B54 è l'antenna satellitare. E hai montato tutto l'impianto su un gommone, quindi? Sì, 5,50, 5,40. Perché è un vecchio focchi che io ho tutto rifatto completamente, è un tutto nuovo. Ok. E la tua tecnica di pesca preferita? Quali sono le tecniche a cui ti interessi di più? Allora, negli ultimi sei anni ho fatto molta pesca di profondità, cioè volentino alle pizzornie fino ai 200 metri e non mi sono mai spinto oltre, perché comunque avevo già buoni risultati così, però ho visto che oltre si possono prendere bei pesci, ho degli amici che prendono, che vanno solo per esempio dai 500 agli 800, uno è mio compà, un altro è un ragazzo di nuoro, quell'altro se non sono 700 metri non pesca, e prendono bei pesci, cioè le cernie grigie, quello che pesca a 7-800 metri, le avvocate sono un minimo pesci di 35-60 kg. Sì, è un'altra, diciamo, è un'altra tipologia di pesca rispetto a quello che può essere appunto la pesca sottocosta. No, ma poi faccio tutto, cioè non è che questo è quello che ho fatto negli ultimi sei anni, ma io poi faccio dentici, il bollettino normale. Quindi tutta l'esca, tutta l'esca diciamo per i dentici, quindi questo vuol dire anche i calamari probabilmente. Tutto, tutto, e poi io sono un subaccio, cioè io tuffo fino a 40-42 metri, quindi il fondo, la comprensione del fondo mi è, come ho saltato i 30 metri, dai 30 ai 42, ho capito veramente dove cercare i pesci, dove le persone non li cercano. Perché il furuno aveva quella funzione, aveva quella funzione di discriminazione del fondo e io come l'ho comprato il TZ2, ho iniziato a guardare, segnava roccia e tuffavo, segnava roccia e tuffavo, segnava roccia e tuffavo. Poi c'è un fondo che lo indica come grigio, che dice fango, ma in realtà non è fango, non è fango, assolutamente fango, cioè io dico nella mia zona, è una roccia piatta nera, dove non c'è più la Poseidonia, perché dopo i 40 metri non c'è più la Poseidonia, e fa lastra roccia e sono piccole oasi in mezzo a niente dove i pescatori professionisti non mollano, reti non molla niente, ma c'è talmente tanto pesce, 37, 38, 42, su dei gradini che possono essere dal metro al mezzo metro, sono delle lastre piatte e spacca, trovo delle cerni, cioè tu non... Ma infatti, te lo confermo, nel senso, la nuova frontiera non è più andare a cercare la secca di 30 metri che risale dal fondo, dove non c'è praticamente più niente, non trovi più nulla su quella secca, la nuova frontiera è andare a cercare questi piccoli gradini che su 40 metri di profondità diventano assolutamente difficili da vedere se non usi il scandaglio in un certo modo, e solo in quel caso, cioè magari riesci a trovare del pesce interessante. L'unico modo è questo, le persone tante volte si dimenticano che... noi stiamo parlando di altezze considerevoli, quando parliamo di 30 metri, io dico sempre, cioè faccio questo esempio, fate finta di essere su un palazzo e pensate a un palazzo di 30 metri, 30 metri sono 10 piani, 40 metri sono 13 piani, dal tredicesimo piano di un palazzo, secondo voi, riuscite a vedere un gradino, riuscite a vedere un pesce che ha un chilo, due chili? Io la vedo molto dura, soprattutto anche perché il nostro trasduttore, il nostro ecoscandaglio, come sapete fa un cono e questo cono illumina una superficie ampia. Quando sei a 40 metri la superficie comincia a essere 15-20 metri, su 20 metri andare a mettere in risalto una piccola porzione comincia a essere complicato. Allora, la prima cosa da fare è tenere in considerazione questa cosa e imparare a utilizzare lo shift per aumentare al massimo la definizione su quelle profondità. Quindi, strumento in manuale, adesso io tra l'altro ho anche attaccato proprio lo strumento qua sul PC, quindi potrò mostrarti in diretta come si fa, anche se, purtroppo, non riuscirò a mostrarti perfettamente cosa si fa perché il demo non mi permette di andare a modificare i dati che sono registrati all'interno della macchina. Cioè, riesco a fare lo shift, ma la definizione rimarrà quella, diciamo, normale senza shift. Comunque avrò un protocollo da eseguire che tu mi insegni come devo fare per riuscire a vedere esattamente, cioè, settare esattamente la macchina, è quello che ti interessa. E poi con l'esperienza è mare, mare. Esatto, esatto. Allora, ritorniamo su questo ragionamento che secondo me è una tra le cose più importanti, per non dire fondamentale. Stavo pensando addirittura a mostrare qualche immagine. Ti faccio una domanda prima. L'unica cosa che io non ho comprato è stato questo nuovo trasduttore per la scansione laterale, perché non ho capito bene una cosa. C'è, io nel 3D ho una visione laterale, però non ho capito. Certi dicono, dai in view, sai in view, strutus can. Qual è questa differenza tra queste tre parole, queste tre cose? Allora, stiamo parlando di tre sistemi diversi. Allora, il side vision ce l'hai anche tu sul tuo DFF 3D, ma non è un side vision, come chiamarlo, molto performante. Il DFF 3D ha questa funzione, ma non è la funzione principale. Come sai bene, il DFF 3D lo usi soprattutto per mappare il fondo, come live, per vedere dove è il gradino, la posizione del gradino. Eventualmente per vedere dove ci sono i banchi di pesce foraggio. Queste sono le funzioni fondamentali. Dopo hanno aggiunto questo side vision, che però è molto limitato. Per quale motivo? Il DFF 3D ha un cono di 120 gradi. Il side vision diventa interessante, cioè funziona molto bene, quando invece è molto più aperto. Più è aperto il cono nel side vision, più lontano ovviamente riesci ad andare. Tu con un 120 gradi, quando sei a 50 metri di battimetrica, riesci a vedere 50 metri a destra e 50 metri a sinistra. E questa è la portata del side vision 60 e 60, dai, del side vision del DFF 3D. Che però è molto limitata, perché tu il side vision, per usarlo bene, per vedere bene i dettagli, devi usarlo in modo radente sul fondo. Allora lui ti fa vedere l'ombra di quello che c'è sul fondo. Il side vision che ha fatto la Furuno è uno strumento completamente diverso. Innanzitutto non ha un'apertura, la lama non è aperta a 3 gradi, come il DFF 3D, ma è aperta a meno di un grado. Quindi hai molta più definizione, perché è una lama molto più stretta. E in più la lama arriva praticamente a 90 gradi, cioè parte dallo zero, sotto la barca, per arrivare fino quasi alla superficie del mare. E questo ti permette di spaziare veramente tantissimo. Allora, vediamo una... Fino a che quando arriva... Prego, scusa? Fino a che quando arriva questa sonda... Ma guarda, dalle prove che ho fatto io, tranquillamente anche 100 metri fai, senza nessun tipo di problema. Si può, la posso installare con tutta questa roba che ho già installato? No, allora, il problema è questo. Il Side Vision ha bisogno di praticamente i due canali CIRP che tu adesso stai utilizzando sulla tua macchina per la sonda B265. Quindi quando colleghi il Side Vision, non puoi usare anche la B265 contemporaneamente, perché l'uscita della macchina è quella. Allora, però il Side Vision diventa molto importante per te, perché ti fa vedere proprio queste cose di cui tu mi stai parlando, le trovi molto più facilmente. Allora, io per esempio, su certe barche dove ho un monitor solo, cosa faccio? Metto la scarpetta del Side Vision e uso il DFF3D come ecoscandaglio. Sai che hai anche la visione triplo ecoscandaglio sul DFF3D. Allora, quello lo usi come ecoscandaglio e usi il Side Vision per andarti a cercare i punti molto lontari dalla barca. Questo è il sistema giusto. E dopo, quando ti sei marcato i punti, perché ti serve anche l'ecoscandaglio, come ti ho detto, oltre il Side Vision? Perché una volta che hai trovato il punto interessante, tu devi di nuovo ripassare sul punto con l'ecoscandaglio sopra, perché quando metti il Mark sul Side Vision, la posizione del Mark non è mai giusta. È sempre sbagliata di un 20-30 metri anche. Quindi tu devi fare il passaggio in ortogonale, metti un Mark sul Side Vision, vai dalla parte opposta, torni indietro con la barca, fai una virata di 270 gradi. Se tu hai marcato a destra, rispetto alla tua prua, a dritta, tu, sempre con la traccia attiva, vai un po' avanti, fai una curva di 270 gradi e punti contro il Mark. A un certo punto, superato il Mark, troverai la roccia che ti ha marcato il tuo Side Vision e metti lì il waypoint, quello giusto, e il Mark di prima lo cancelli. Questo è il modo corretto di operare per segnare il punto, diciamo. L'ecoscandaglio che ti fa vedere il 3D con tre finestre diverse, che cos'è? È cirpo o normale? È un cirpo sempre? No, quello è un ecoscandaglio normale che tra l'altro non usi neanche, fra virgolette, bene, perché ha un problema. Mentre la sonda del nostro ecoscandaglio ha una forma più o meno circolare, cioè l'area che viene illuminata, cioè un cono, un cono circolare o al massimo elittico, invece quando tu usi un ecoscandaglio come quello del DFF3D devi ricordarti che la sonda è composta da 40 piccoli trasduttori da 3 gradi ciascuno e ha una profondità quindi da prua a poppa di appena 3 gradi, mentre destra a sinistra arriva a 120 gradi. Questo cosa vuol dire che se tu passi sopra un pesce non ti farà mai un arco, ti farà un pallino, un pallino rosso e questo può diventare un problema nel fase di ricerca delle prede, dei predatori, perché non riesci a capire da questo pallino quanto grande è il pesce. Mentre se usi la sonda normale, quella del tuo TZT-12, allora lì hai proprio il disegno diciamo del Mark e ti fa proprio l'arco e tutto il resto. Ecco qua. Allora, questa è un esempio di una roccia, adesso lascia stare che questa è comunque una roccia molto grande, noi andiamo a cercare il pesce anche su cose molto piccole, però come vedi io sto utilizzando lo Shift in un modo abbastanza spinto, perché praticamente ogni tacca sull'eco scandaglio mi segna un metro. Questa è una roccia che è alta 3 metri sul fondo a una profondità di 57 metri. Ti posso assicurare che se tu vai a vedere questo tipo di roccia a una profondità di 80 metri, 60 metri anche, se non usi lo Shift hai veramente difficoltà a riconoscerla. È molto più difficile andare a trovare una roccia se non usi lo Shift aumentando al massimo la posizione, il punto. È molto più difficile, è molto più difficile. Vediamo se riesco a rintracciare ancora qualche screen e dopo cercheremo anche il Side Vision perché anche quello come ho detto è molto importante. Ormai ho capito, per esempio, ho capito che soprattutto nelle zone piate. Adesso non so come mi marcherà col Cirpi, io sono abituato con l'altro, avevo il B260 normale, però nella zona dove vedevo che il fondo me lo dava più scuro, scuro proprio, vedevo e c'erano le strisciorie, non gli archetti perché il B260 non mi dava gli archetti, era difficile a trovarli, ma mi dava i pesci, mi li segnava come zigrinati bassi sul fondo tanta compalla di mangianza, io la tuffavo e c'erano i pesci sicuro al 100%. Il mezzo a niente, io ho delle zone qua fuori dal Ghero che è tutto piatto così, tutto piatto così e all'inizio dicevo qua piatto, cercavo quei gradini che mi hai fatto vedere tu, cose del genere, del genere. Poi quando ho iniziato ad andare più fondo, col Mincota mi fermo, tuffo e dicevo ma no no, ma allora... Però il problema è che adesso tu non hai l'analisi del fondo sul tuo strumento con la B265LH, non ti funziona la discriminazione del fondo. Sì, sì, ma intanto non mi sto dicendo la levavo la discriminazione nel fondo ma l'ecoscandaglio mi dava proprio una parte liscia un po' più scura e dove vedevo la parte scura e mi dava le mangianze lì trovavo i pesci che prima quelle mangianze in fondo quello sì, quello sì. Adesso dipende molto da come regoli anche il clatter per avere questo tipo di situazione. Ti metto per esempio un'altra immagine. Qua parliamo di un gradino che è veramente sull'ordine dei 30-40 centimetri e vedi che c'è il pesce sopra. Sì, sì, sì. Queste cose così cerco io. Allora, qui nella parte prima che la vedi molto più frastagliata il motivo è perché sto andando abbastanza veloce in quel momento e dopo invece ho rallentato quindi chiaramente ho avuto meno disturbi e riesco anche a trovare meglio i pesci fondamentalmente. Io sono rimasto impressionato da alcune schermate che hai fatto vedere nei tuoi video dove la parte il fondo è proprio pulito e vedi i pesci che proprio quegli archetti di quelle di quelle fotoline o quante ne vuoi di quelle o quante ne vuoi cioè non è un problema farti vedere tipo cose così mi stai dicendo lascia perdere che sono pesci piccoli questi eh questi non sono pesci grandi questi qua sì sì io per esempio con la sonda con quell'altra non è che vedevo quelle un po' più meno chiare me ne vedevo molte capito così quando trovavo i pesci allora questi sono pesci guarda per mia esperienza posso dirti che sono pesci intorno al chilo chilo un chilo e mezzo il fondo è liscio per esempio sì sì no no ma però io sono vicino io qui sono vicino alle strutture di cui parlavamo prima guarda la foto guarda la foto della mappatura del fondo a sinistra sì vedi l'ecoscandaglio e subito a fianco hai la cartografia la cartografia vedi che ci sono delle rocce che salgono del fondo allora considera che il punto più rosso ha 53 metri il punto azzurro ne ha 60 questo vuol dire che queste rocce si alzano fino a 4-5 metri così ad occhio parliamo adesso no e io in questo momento sono alla base delle rocce qui intorno ho ghiaia ghiaione perché conosco bene questo fondo e le rocce invece sono delle rocce abbastanza consumate piatte che vengono su proprio dal fondo tipo panettone intorno ho trovato pagri in questo caso abbiamo pagri da circa un chilo un chilo un chilo e mezzo però chiaramente la definizione della macchina la vedi tutta la vita adesso ti voglio far vedere vediamo se riesco a trovare qualche altro screen guarda questo pesce guarda quanto è tirato in questo momento lo shift parliamo di uno shift che parte dai 28 metri e arriva ai 32 qua parliamo di 4 metri qua stiamo parlando di una bassa frequenza perché come ho già spiegato tantissime volte non abbiamo il problema di dover andare a usare l'alta frequenza per avere buona definizione la nostra bassa frequenza funziona benissimo io quando passo sopra uno spot è come se ci andassi col canocchiale nel senso che vedo perfettamente i pesci che ci sono sotto sono in grado di contarli e questa è la definizione che riesci a ottenere come qui siamo tutto in manuale basta regolare bene il clutter regolare bene il gain fondamentale e usare bene lo shift che pesce è? no no ho cercato perché voglio regolare bene queste cose usarli bene capire bene come regolarli perché è la base se no ma guarda è veramente molto semplice la prima cosa che devi fare è andare a gire sullo shift quindi devi mettere in evidenza la parte vicino al fondo quindi scala e manuale devi togliere l'automatico e ti vai a regolare bene lo shift ma guarda questa cosa qua tra tre minuti voglio farti vedere ancora qualche schermata te la faccio vedere in diretta una cosa che ho visto che ho visto che una schermata dove tu con la palette di colori sembrava di avere un fondo 3D esatto sì sì questa è un'altra funzione adesso adesso ti mostro anche questa allora quel tipo di rappresentazione sul TZT non va benissimo per la ricerca dei pesci ma è fondamentale per fare proprio l'analisi del fondo tipo questa vedi guarda qua dove c'è il 30 vedere questo dove c'è il 30 qua sul verde quello è un altro un'altra specie di gradino piccolino quello è un gradino infatti questo tipo di palette che si chiama solar è stata fatta apposta per andare a individuare diversi cioè i vari livelli del fondo che non sono sotto la barca ma sono appunto spostati ora adesso ti mostrerò dovrei averne ancora qualcuna di ancora più evidente il discorso vediamo un attimo se riesco a ritrovarla ecco per esempio anche questa potrebbe essere ne avevo una che proprio ecco guarda questa per esempio ma è una è una è una paletta preimpostata o la devi impostare tu è preimpostata che imposti tu nel senso tu la scegli nel menu della macchina e ovviamente ti compare questa paletta però vedi per esempio io se devo andare a cercare i pesci qua per esempio non ho neanche usato lo shift se qua usavo lo shift potevo mettere in risalto perfettamente tutto il fondo però vedi che mi mancano tanti colori sui pesci i pesci non hanno più il giallo il verde l'arancio perché la macchina sta utilizzando tutti i colori a disposizione proprio per fare l'analisi sul fondo questa è una palette colori che io uso in ricerca per andare a cercare degli spot ma soprattutto i crepacci i crepacci sono una cosa difficilissima da vedere invece come tu ben sai quella pesca che fai che il crepaccio può essere fondamentale nella tua pesca quando riesci a trovare quello se adama esatto allora il praticamente perché non riesci a vedere i crepacci perché appena l'ecoscandaglio ti becca la parte superiore della pietra quella parte lì crea il cono d'ombra il cono d'ombra ti toglie la visione perché ti fa la banda rossa sullo schermo e ti toglie la visione di tutto quello che sta sotto rispetto a quel punto più alto giusto però in realtà cosa succede adesso ti faccio un esempio pratico per farti capire che non è neanche proprio così semplice da capire allora ma secondo me questa cosa qua sono veramente lo 0,01% che sa veramente questa cosa io non ne conosco persone che si conoscono pescatori parlo parlo di pescatori diciamo che ci sono che ci sono ci sono alcuni aspetti che non vengono spesso presi in considerazione però in realtà diventano fondamentali perché se tu non capisci bene io insisto molto su questa teoria e so che tantissime persone abbandonano il video dopo un po' perché dicono che palle preferisco avere informazioni di base purtroppo guarda è come andare in aereo io tra l'altro ho fatto anche tre brevetti di aereo tra cui anche agliante andare in aereo non è sufficiente conoscere tutti i comandi dell'aereo da cloche i pedali il trim i flap e come funzionano tu devi sapere qual è la fisica del volo se no probabilmente sei anche in grado di decollare ma ti posso assicurare che dopo l'atterraggio non lo fai più perché perché è impossibile sbagli mandi l'aereo in stallo devi capire perché l'aereo vola e infatti sui corsi che fai per diventare pilota l'80% riguarda la teoria e solo dopo aver fatto tutta la teoria si comincia a parlare di pratica io vedo che tutti i pescatori hanno una fretta incredibile di arrivare subito alla pratica e mi dicono sì ma fammi vedere in pesca portami fuori ma è come dire a uno che ho appena comprato la macchina nuova non so neanche guidare e ti chiedo senti mi dici in che posizione mettere l'acceleratore per andare a 130 km all'ora giusti in autostrada spiegamelo tu dimmelo come faccio se non sai come funziona la macchina se non sai che l'acceleratore che hai cioè è impossibile questo è ancora peggio l'eco scandaglio sta facendo una cosa che per noi è fuori di testa perché noi siamo abituati a guardare le cose e non solo guardiamo anche l'eco scandaglio ma in realtà il discorso è molto più complicato tu saresti capace di farmi la foto farmi vedere uno screenshot di una canzone dei maneskin e io dovrei da questo screenshot senza ascoltare la canzone riconoscere quella canzone senza che sia scritto maneskin tu pensa che il nostro eco scandaglio ci rappresenta in modo grafico una canzone alla fine musica cioè una serie di informazioni sonore che lui elabora e ce le mette a disposizione in un certo modo sull'eco scandaglio sullo schermo ma già qua puoi capire quanto è diverso noi guardiamo un'informazione che in realtà sarebbe acustica i vecchi sommergibili che avevano l'impianto sonar non avevano mica lo schermo c'era l'operatore con le cuffie lui faceva partire il ping e si metteva ad ascoltare cosa tornava indietro e dal ping capiva se arrivavano delle bombe se arrivava una nave e tutte queste da dove arrivava perché poteva anche girare questo questo sistema di ascolto noi dopo ci siamo inventati l'eco scandaglio lo schermo che diventa tutto molto più comodo prima era su carta poi abbiamo passato il bianco e nero dopo siamo passati ai colori tutto bene tutto buono abbiamo un sacco di informazioni ma ci dimentichiamo di capire come fa lui a rappresentarci questa cosa se non facciamo una gran fatica perché io lo so non voglio dire adesso che queste cose sono semplici e sono alla portata di tutti però per quelli che vogliono imparare vogliono conoscere il proprio strumento sfruttarlo al massimo dobbiamo partire da queste basi allora possiamo discutere dopo discutere su tutto io direi a questo punto di farti vedere qualcosa sull'eco scandaglio faccio una premessa questa è la schermata doppia frequenza con una sonda 50-200 la classica B260 e siamo a 20 metri di profondità questo è perché il demo è fatto così non è che posso farci grandi cose la prima cosa che faccio in questo momento è togliere la doppia schermata quindi dito dal basso verso l'alto ho la sezione coscandaglio e vado su frequenza singola e in questo momento come vedi comincia a comparire la bassa frequenza qui in questo momento devo controllare la seconda cosa che faccio controllare se ho la scala in automatico o in manuale bene spostando il dito come puoi vedere la scala è in manuale a me cosa interessa interessa mettere a fuoco tutto quello che sta sul fondo in questo momento ovviamente quindi cosa faccio con due dita allargo le due dita e vado a operare uno shift come vedi purtroppo la definizione di questo strumento in questo momento non è molto alta ma è solo dovuto al fatto che questo è un demo e quindi c'è una pre-registrazione dei dati lui non è in grado di ricevere i dati in diretta dalla sonda se no tutta questa pixelatura noi non l'avremmo avremmo direttamente soltanto l'informazione con una definizione molto più alta che ti sembra questo? questa è una foto no? sì sì allora considera che nel punto centrale avevo qualcosa come tre metri d'acqua cioè in basso vicino all'altezza del meno vedi dove si stringe molto la colonna d'acqua lì avevo tre metri e riuscivo a vedere tranquillamente gli scogli della scogliera a cento metri di distanza guarda come mi mostra queste queste specie di isole che vedi in alto a sinistra sono le macchie di Posidonia su sabbia credibile e parliamo di una profondità circa di 10 metri a una portata di 100 ma io ti adesso dovrei andarle a cercare ma io potrei mostrarti foto di una portata anche a 200 250 metri con questa definizione anche anche su un fondo di 30 40 metri c'è questa portata di definizione a 250 sì esatto esatto credibile speriamo che non ci sia così tanto da attendere ogni volta per avere purtroppo purtroppo un po' di attesa fra virgolette c'è questo te lo dico subito però per fortuna in questo momento non non c'è stata tanto non c'è stata tanta richiesta perché la gente non lo conosce e tra l'altro io ho fatto veramente poco perché ho fatto due video un unboxing e un video però chi lo prova per le persone come te che fanno apnea cioè non ce n'è nel senso non ce n'è lascia stare non stiamo neanche a parlarne perché non ha senso ecco non so come spiegarlo aspettavo di parlare con te ma gliel'avevo già detto di ordinarlo allora questi pallini che vedi a sinistra a 40 e a 60 metri della barca sono dei corpi morti che hanno una dimensione di circa 60 80 centimetri per lato appoggiati al fondo che sono appoggiati al fondo fondo di sabbia saranno alti niente cosa sono alti 30 centimetri 30 centimetri poveri pesci eh sì diciamo che hai la possibilità di andare a cercare e trovare cose abbastanza facilmente cioè effettivamente Inside Vision ti aiuta moltissimo ti aiuta veramente molto 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 Giuseppe sul lato destro qui a 65 metri per esempio questo questa è una pietra con l'ombra bravo in base all'ombra non si può capire l'altezza no dipende da diversi piccoli fattori non è così semplice non è così semplice diciamo che il Inside Vision ti serve per individuare gli ostacoli poi devi e dopo la cosa migliore è passarci sopra con l'ecoscandaglio non ha non ha senso fermarsi a solo questa immagine e metterci un oppure da questo dire boh ma beh quello è alto un metro un metro e mezzo no devi fare i soliti 270 gradi tornare lì con la barca ci passi sopra con l'ecoscandaglio e vedi esattamente di cosa si tratta Giuseppe sei soddisfatto? si giusto se mi l'ultima cosa ma una volta che metto lo shift giusto le due regolazioni del clutter e che cosa come agiscono come c'è a livello pratico allora abbiamo detto shift andiamo nella posizione che ci interessa di più swift dal basso verso l'alto qui abbiamo la doppia frequenza mettiamo la frequenza singola che è questa di nuovo dal basso verso l'alto ok adesso è l'alta frequenza io voglio passare alla bassa quindi da qui sul tastino in basso vicino i numeretti scelgo la bassa perfetto le impostazioni più importanti abbiamo detto il gain come vedi ci fa aumentare o diminuire diciamo la sensibilità di ciascun pixel qua si vede bene proprio come cambiano i pixel e dopo abbiamo il clutter che è sempre dal basso verso l'alto passi al clutter e con questo guarda un po' cosa succede vedi che i target qui hanno rumore di fondo col clutter basso alzando il clutter pulisco il rumore di fondo quindi quando io alzo il gain ma alzo anche il clutter cambio la visione perché il clutter mi allarga restringe la finestra del game ma la devi andarti a vedere assolutamente quel video che ti ho detto che ho preparato un po' di giorni fa te lo metterò anche in descrizione del video certe volte io la sera lo guardo con la tablette molte volte video che dorme io sono morto no 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 devi farlo di mattina perché se no perché non riesco a spiegartelo qui adesso è praticamente impossibile devi guardarti come devo partire comunque l'impostazione di fondo l'ecoscandaglio questi questi che ti ho mostrato questi che ti ho mostrato sono l'impostazione di fondo poi ci troviamo la prossima volta e facciamo un approfondimento va bene d'accordo non so come ringraziarti spero che io ringrazio ringrazio io te perché innanzitutto sei tra gli abbonati che sostengono il canale e quindi mi sembra proprio il minimo dedicarvi del tempo e cercare di fare quello che posso per voi insomma grazie grazie ancora e Giuseppe ci sentiamo allora quando ritorno dalla dell'avventura adesso di Genova ci fisseremo un altro appuntamento e vediamo di approfondire ancora altre tematiche come come uso l'ecoscandaglio farò degli screenshot e te li porto a vedere ok grazie mille ciao ci vediamo ciao 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 ciao